E' pronta a fare il suo ingresso a Palazzo Campanella a Vandaferro. A dire il vero lo è sempre stata, visto il suo diritto al seggio regionale, come avvalorato dalla sentenza della consulta emessa qualche mese fa. E lo farà alla prima riunione utile dell'Assemblea, aderendo al gruppo misto. La vice coordinatrice regionale di Forza Italia era presente sabato pomeriggio a Montauro in occasione dell'inaugurazione della nuova sala consigliare e dei conferimenti di cittadinanza benemerita e onoraria. Credo che sia stata una battaglia condotta, seppur in solitudine, per nome e per conto non soltanto di Vandaferro ma dei tanti elettori che nel momento storico peggiore del centro-destra si erano ritrovati in un progetto, in un programma ma anche nella volontà di cambiare un po' le cose. Una bellissima emozione, sicuramente un insediamento da me scelto in modo ufficiale, quindi alla prima seduta del prossimo consiglio regionale per motivare quale saranno le linee guida che intendo seguire, ma soprattutto con la speranza di un'opposizione che sia il più unitario possibile, ma soprattutto di un'opposizione che faccia l'opposizione. Quindi senza inciuci, senza via di mezzo, con l'idea di collaborare e perché no, di portare quel valore aggiunto che nell'arco di due anni e mezzo ha visto una regione affossata totalmente in tutti i settori e credo che questo sia visibile a tutti i cittadini. Lei ha dichiarato di voler far parte del gruppo misto. Un po' per quell'idea di poter ricongiungere le varie anime che si trovano nei vari gruppi e nello stesso tempo perché ritengo di essere stata la candidata non soltanto di Forza Italia ma di altre liste e quindi di poter rappresentare in modo corale quel capo dell'opposizione inteso, non nel senso negativo, ma di colei che potrà guidare ovviamente un processo differente per un centrodestra che deve riorganizzarsi sui territori, che sui territori deve trarre la propria forza ma che deve fare la differenza. Purtroppo le croniche degli ultimi giorni ci fanno capire che non sempre esiste la buona politica e lo dico con grande amarezza. Un'opposizione che non vuole essere solo protesta ma anche tante proposte. Partirò da quella mancanza di regole che in questa regione hanno visto ovviamente me estromessa come il miglior perdente ma che è significativo rispetto a tutto quello che deve essere un'attività amministrativa. L'abbiamo visto con il sistema informatico dell'antisismica che credo sia una delle cose peggiori che si sia registrato, devo dire, negli ultimi vent'anni nel regionalismo. Partirò dalla sanità, dalla possibilità dei giovani attraverso i fondi comunitari di poter in qualche modo trovare uno spazio lavorativo e soprattutto partirò da quel senso che ognuno di noi deve avere nel fare il proprio. Quindi ad una buona politica, una buona burocrazia ma attraverso non soltanto in qualche modo la protesta ma mi auguro tante proposte. Quelle proposte che credo debbano partire dal dissesto idrogeologico, dal ruolo dei sindaci e quindi dalle amministrazioni locali, dal mondo della cultura che, devo dire, registra ormai un fermo totale in una Calabria che di cultura dovrebbe vivere e di turismo partendo ovviamente da tutti quei settori che avrei messo in piedi qualora fossi stata la governatrice di questa regione.